proviamo a partire dai 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 4.000 5.000 6.000 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 7.000 7.000 8.000 6.000 7.000 Grazie. 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 Mi aspettano. Mi aspetto. Mi aspetto. Mi aspetto. Ho scato tutto in una tirata da somma. Grazie a tutti.